Il vento? Il vento verrà tenuto conto per fare poi una cosa, se il vento dovessi diventare eccessivo eventualmente facciamo la pesata all'interno del vento. Il vento verrà tenuto l'interno 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 del vento verrà tenuto l'interno del vento. Il vento verrà tenuto l'interno del vento. Il vento verrà tenuto l'interno del vento.